Barbara D'Urso stamattina su Instagram, ha dato un buongiorno ai suoi fan molto particolare Ancora una volta, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha stupito i suoi fan con uno scatto molto particolare Barbara D'Urso mette in mostra alle sue forme con uno scatto piccante.La conduttrice di Pomeriggio 5 non smette di avere successi e con molta naturalezza ha voluto comunicarlo ai suoi fan direttamente sul suo profilo Instagram Barbara D'Urso, infatti, indossando uno splendido sottoveste bianco, mettendo in mostra il suo prosperoso seno, ha salutato i propri follower con un buongiorno da togliere davvero il fiato Inoltre, Barbara ha voluto ricordare ai suoi seguaci il successo avuto ieri con Pomeriggio 5 Soddisfatta e felice, Barbara D'Urso ha mandato un bacio a tutti, ringraziandoli per il loro sostegno La presentatrice di Canale 5 nonostante l'età possiede ancora un fisico mozzafiato e, malgrado le critiche, non perde occasione per far vedere le sue forme Da poco compiuti 61 anni, lei di Cologno grazie all'attività fisica e al buon cibo è una delle donne più invidiate della tv italiana Barbara D'Urso in onda in prima serata con Domenica Live.Di domanda.Barbara D'Urso e Domenica Live potrebbero sbarcare presto in prima serata La notizia è circolata sul web da alcuni giorni facendo impazzire i fan della D'Urso Sarà vero? La conduttrice televisiva di Canale 5, inoltre, dal prossimo anno vestirà i panni della famosa dottoressa Jo, ma per ora ancora non è possibile sapere quando verrà trasmessa l'afficio Domenica Live perde contro Domenica in punto Barbara D'Urso purtroppo Domenica scorsa non è riuscita a battere la sua nemica Malgrado gli ospiti di grande eccezione, la D'Urso è stata battuta da Domenica in Nonostante tutto, la bella napoletana ha ringraziato i suoi fan Che con la loro dedizione le permettono di andare in onda tutti i giorni portando comunque grandi ascolti alla media se